ciao benvenuta e benvenuto in questo nuovo video nel quale ti parlerò su come fare il kefir di latte cercherò di spiegarti tutto il processo dall'inizio alla fine fino al risultato finale se ti piace metti un like al video e magari vai anche a guardarti altri video sul tema della fermentazione che sono presenti nel mio canale ecco per cominciare guardiamo l'attrezzatura che ci serve avere per fare siamo a casa il kefir di latte ok allora ovviamente bisogna partire dalla cultura ok altra cosa che bisogna avere è una spatola bisogna avere una ciotola capiente eventualmente una ciotola più piccola vedremo a cosa ci servono un altro vasetto per mettere dentro il kefir pronto un colino io ne ho qua di due tipi diversi perché in base a ciò che vogliamo fare dobbiamo utilizzarne uno o l'altro vedremo dopo cosa significa questi hanno una come vedete uno spessore dei fori leggermente diverso questo qui è più uno spessore di fuori più largo mentre questo qui si è più più fine più stretto ok ultima cosa che serve per fare un buon kefir ovviamente è il latte in questo caso io sto usando un latte intero allora abbiamo la nostra cultura che è pronta allora prima di tutto serve una ciotola capiente dove filtrare il kefir di latte prima vi parlavo anche di una ciotola perché in questo caso noi abbiamo possibilità di scegliere quale densità dare al nostro kefir finale se noi filtriamo il kefir così com'è nella nostra ciotola noi avremo il classico kefir che diciamo un po più liquido del dello yogurt tradizionale no quindi sarà diciamo una sorta di bevanda di latte se invece vogliamo un kefir molto più denso possiamo affruttare il fatto di filtrare precedentemente usando il colino a maglie più più fini ok quindi con un passaggio in questo colino noi potremo far andare via il siero che come vedete qui si è separato in qualche punto dal latte e togliendo il siero noi potremo avere successivamente un kefir molto più denso quindi la ciotola piccola serve semplicemente se noi vogliamo pre filtrare il kefir per farne diciamo una versione più densa il tra il kefir è davvero semplice versiamo a questo punto il nostro il contenuto fermentato vedete questo è il kefir pronto lo versiamo all'interno del colino questo che sta cadendo prima di tutto è il siero come vi dicevo si può scartare per ottenere un kefir più denso ma nel mio caso non voglio farlo ecco vedete continua a cadere il siero adesso vi faccio giusto vedere un attimo cosa avviene ecco qui dentro ho ancora il kefir il kefir con i suoi grani mentre qui sotto vedete ho il siero che è diciamo quasi trasparente bene procediamo con il filtraggio adesso uniremo tutto insieme ecco qui quello che dobbiamo fare è appunto filtrare il kefir vedete comincia a andare sotto nella ciotola il latte fermentato ok vedete ecco in questo modo noi stiamo separando i grani dal kefir ecco qua quello che sta andando nella ciotola sotto è il kefir pronto volendo possiamo aiutarci con una spatola girandolo ecco qua aggiungiamo il restante che è rimasto nel vaso ecco qua ecco qui in questo modo abbiamo separato i grani dal kefir questa è la parte che noi consumeremo mentre i grani torneranno nel vaso eccoci ora abbiamo qui il nostro kefir è come dicevo liquido ma come vi ho spiegato può diventare più denso qui dentro abbiamo i grani e qua abbiamo il vaso adesso dobbiamo rimettere i grani nel vaso quindi in caso voi ricevesse diciamo dei nuovi grani da qualcuno partireste da questo punto cioè andrete a mettere i grani in un vaso il vaso che sceglierete ecco in questo caso io sto utilizzando una quantità di circa 100 grammi di grani ogni litro di latte quindi a questo punto rimettiamo i grani nel vaso allora cosa molto importante ogni tanto mi chiedono se il vaso è da lavare io non lo lavo mai ok lo tengo appunto sempre sporco di kefir proprio perché il vaso diventa esso stesso diciamo un veicolo uno starter ok altra cosa importantissima che mi chiedono e se i grani vanno lavati assolutamente no i grani di kefir di latte non vanno assolutamente lavati ok se proprio li volete lavare lavateli in un po di latte ma è un procedimento che non ha senso cioè non ha motivo di esistere quindi voi li filtrate li mettete nuovamente in un vaso e a questo punto aggiungete il vostro latte ok anche se freddo di frigo non è un problema ok anzi d'estate è sicuramente una cosa buona a questo punto mescoliamo i grani una cosa soltanto dobbiamo aver cura di fare ed è quella di pulire il bordo del vaso pulire leggermente l'interno in modo che non rimangano sbavature dopodiché io di solito agito in questo modo il mio vaso il latte va a lavare le pareti porta via i grani che sono rimasti appiccicati nelle pareti e da adesso in poi posso chiudere e il mio kefir sarà nuovamente pronto allora alcuni dettagli alcune specifiche diciamo su come conservare kefir allora tappo aperto tappo chiuso come facciamo allora io utilizzo un tappo di questo tipo senza il gommino senza la guarnizione ok e lo tengo semplicemente chiuso in questo modo il kefir in realtà non ha bisogno di ossigeno di respirare eccetera quindi può tranquillamente stare anche chiuso in un vaso ermetico sarà pronto nel giro di 48 ore ok e va mantenuto a temperatura ambiente cioè la temperatura che avete in casa la potete mettere in dispensa io ce l'ho proprio appoggiato su un mobile in bella vista perché anche bello da vedere un bel vasetto di un fermentato quindi fa una bella figura e quindi lo tenete a temperatura ambiente e nel giro di 48 ore sarà nuovamente pronto cioè tra 48 ore noi dovremo ripetere questo procedimento se utilizzate invece un latte vegetale questo procedimento potrà essere molto più breve potrebbe durare 24 ore e quindi dovete stare molto attenti a capire quando è pronto eccoci qua quindi sono passate 48 ore sostanzialmente da quando abbiamo fatto il kefir ok come facciamo a questo punto a capire quando è pronto effettivamente perché non esiste uno strumento di misurazione specifico che ci indica quando è pronto dobbiamo osservarlo e soprattutto dobbiamo calcolare diciamo tenere a mente il tempo in cui l'abbiamo fatto per avere il kefir pronto devono passare circa 48 ore 48 ore è il tempo indicato c'è chi lo fa anche in meno tempo però meno tempo di fermentazione significa anche meno fermentazione quindi più lattosio all'interno del latte soprattutto questo può essere un problema per chi è intollerante al lattosio mentre 48 ore o anche 3 giorni quindi 72 ore potrebbe essere il tempo giusto di fermentazione del kefir ovviamente anche più faremo fermentare il kefir e più questo risulterà acido quindi diciamo dovete un attimo regolare il sapore che volete ottenere su il vostro livello di gradimento ok quindi come facciamo come fate a capire quando il kefir è pronto bene è abbastanza semplice in realtà quindi al di là del fatto che sappiamo che sono passate circa 48 ore quello che dobbiamo osservare è la consistenza del nostro kefir se voi vedete è diventato molto denso ok è molto denso e comincia a presentare queste screpolature ok generalmente possono anche essere molto più grosse queste screpolature e questo cosa significa? il kefir è fermentato e questo processo di fermentazione che è anche un processo di acidificazione del kefir porta le caseine del latte a separarsi quindi noi avremo la formazione di siero ok e la formazione del kefir vero e proprio e come vi ho spiegato se poi voi volete potrete filtrare questo siero eccetera eccetera quindi questo è un po' il modo per comprendere se il kefir è pronto non c'è bisogno di controllare il pH perché è sicuramente acido quando diventa in questo modo e da questo momento in poi possiamo procedere con la filtrazione cioè con il filtrarlo e il prepararlo come avete visto prima bene questo è tutto per questo video vi aspetto nei prossimi video vi aspetto nei prossimi corsi dal vivo o nei corsi online che terremo seguite la pagina facebook o la pagina instagram e ovviamente se vi va seguite questo canale perché ogni tanto pubblicherò nuovi video ciao ciao